Vediamo crance, classica del ciclo per agli addominali, l'esecuzione corretta si eseguono le gambe piegate, quindi la schiena sia piatta e isolata, le mani dietro la nuca, la mongole di dentrecciate, si solleva la testa insieme alle spalle, espirando e si ritorna, espirando la testa, vediamo un'altra volta, ecco, vediamo gli errori più comuni, quelli di utilizzare soprattutto la testa, il movimento, e lavorare poco con le spalle comuni e gli addominali, invece veniamo ancora corretta, la testa deve essere allineata con la corona. Un altro errore molto comune è quello di eseguire l'esercizio di slancio, sollevando anche la parte bassa è a schiena, e questo comporta delle tensioni sia al collo sia a schiena. Torniamo a vedere l'esecuzione corretta. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!